Clima natalizio, siamo con questo camino e questo fuoco meraviglioso, è il momento di questo Natale. Abbiamo raccontato tutta questa pandemia, Carlo, proprio partendo dal primo lockdown, adesso non si cambia colore, ma il Natale resta il Natale, il regalo resta il regalo. La voglia di regalare prodotti di questo territorio. Certo, la voglia e il piacere anche dei prodotti del territorio, perché il Natale è una festa che si fa in famiglia, quindi forse sentiremo meno la distanza in questo periodo, se fosse Pasqua si va fuori, ma per Natale ci troveremo tutti insieme, in pochi, migliori, e consumeremo i nostri prodotti. Ma io vorrei che questi nostri prodotti arrivassero anche a molti nostri clienti. Anche se adesso sono impassiti perché tutti i giorni mi telefonano, dobbiamo certificare che il pignoletto colli bolognesi di OCG è fatto con uve italiane. Io credo che siamo al punto proprio della stupidità più grande. Perché? Stiamo facendo delle dichiarazioni perché nella pratica che si deve fare per avere i ristori ci vogliono queste dichiarazioni. Quindi i colli bolognesi sono in Italia. E quindi questo è sicuro. Siamo contenti. Senti, avete pensato a delle ceste natalizie particolari, non solo con il vostro vino, non solo con il vostro olio, ma con tanti prodotti? Sì, non moltissimi, ma i prodotti intanto che facciamo noi, l'olio e la saba, che è mosto cotto di pignoletto, che poi dirò cosa serve, è molto utile. Poi abbiamo il biele e il formaggio parmigiano reggiano, qualche solume preso da aziende locali, aziende agricole locali. Perché l'idea è di lavorare, collaborare con le altre aziende di questo territorio, insieme. Sperando che poi loro compri i nostri vini, che non succede sempre, però compro la roba dalle aziende locali e le vado a cercare, come ho sempre fatto durante questi anni, i migliori, secondo me, quelli che sono i migliori, che lavorano meglio, per poter offrire sempre ai clienti che vengono prodotti sani, genuini e del posto. Cosa si può fare con il mosto di pignoletto, che dicevi? Il mosto di pignoletto è il vecchio zucchero che usavano i bolognesi per fare i dolci, ma la saba serve da contorno con i formaggi, con i bolliti, specialmente bolliti di maiale, bolliti di vitello, con tutti i formaggi, con i dolci, con i gelati. Poi noi da ragazzi con la neve facevamo la granatina, forse oggi fa ridere, ma è molto buona la granatina. Con le uova e la farina facevamo la pinza da mangiare e per Natale l'ideale. Quindi ho dei ricordi che vanno indietro alla mia periodo di infanzia, alla giovinezza, quando ero un ragazzino, e che la saba era un prodotto molto prezioso. Si usa in generale come l'aceto balsamico, ma non è acida, è dolce. Io la uso molto d'estate come corroborante con l'acqua frizzante, acqua frizzante fredda, è un pochino di saba, è una bevanda che il tamarindo non ci assomiglia neanche. È il nostro tamarindo. Senti, andiamo sui vini. Allora, cosa bisogna bere in questo periodo? E cosa bisogna regalare? Bisogna bere e regalare gli spumanti. Spumanti, noi ne abbiamo due. Il Franza Brut, il più vecchio spumante che faccio ormai da 30 anni, ed è 100% pinoletto, sta oltre 10 mesi sui lieviti, pur essendo un metodo Sarmat, è un prodotto molto raffinato, molto buono, e si può freggiare del titolo vino spumante di qualità, proprio per questa sua permanenza molto lunga sui lieviti. Quest'anno c'è stato, per il fatto della malattia che è in giro, c'è stato più di 10 mesi, quasi 14 mesi, ed è un prodotto molto buono. 11 gradi e mezzo, serve da aperitivo, ma serve anche, accompagna un pasto piacevole, felice, ed è piacevole e gradito in tutte le ore della giornata. Quando ci si trova a bere un bicchiere fresco, ti fa pensare bene, ecco, in questo momento è molto importante. L'altro spumante è il rosato Letizia, è dedicato a mia figlia Letizia, ed è prodotto con lo stesso sistema, uno Sarmat anche questo, ed è fatto con barbera e pino nero. Rimane solo 3 mesi sui lieviti, è un prodotto di pronta beva, accompagna bene i salumi, accompagna bene il pesce, 10 gradi e mezzo, e il vino che in questo periodo io preferisco, perché ne puoi bere anche due bicchieri e puoi guidare tranquillo, che il tasso alcolico non supera la famosa regola. Allora, a noi piace da sempre promuovere quelle che sono le attività di questo territorio, le buone attività, le genuine, tradizionali. Noi siamo non contro il prosecco, ma noi vogliamo il pignoletto, Carlo, diciamolo, perché adesso, visto che c'è il coprifuoco, qualcuno fa più apericene, più aperitivi anche in casa per anticipare la cena, bisogna usare il pignoletto. Il pignoletto, non c'è confronti col prosecco, il prosecco è buono, il pignoletto è un'altra cosa, noi non facciamo confronti col pignoletto, il pignoletto è un vino che ha un profumo, un sapore che lo distingue da tutti gli altri spumanti, e noi cerchiamo proprio, non che si senta il profumo dei lieviti, ma il profumo dell'uva negli spumanti, e questo secondo me è quello che può essere il punto vigente del pignoletto. ci beve, come dico, volontieri, ma quando si affine pasto, che ci sono i dolci, noi abbiamo un altro prodotto molto interessante, sempre a base di pignoletto, che è l'ambrosia, il pignoletto passito. Il pignoletto passito si produce in questa maniera, lasciamo l'uva ad appassire sui tralci finché è possibile. Io preferisco che non si ammali, non venga la botrite, perché dà dei sapori sia al vino, però sono funghi e quindi è sempre meglio evitarli, secondo me. Quindi a un certo punto la togliamo dalla vigna, la mettiamo nelle cassette, la teniamo un pochino nelle celle frigorifere e poi in dicembre viene pigiato e imbottigliato, rimane in botti di legno in caratelli, 5 quintali, per almeno 24 mesi e dopo è pronto per la vendita. Questo ha 5 anni quello che vendiamo oggi, che si chiama ambrosia, che è il cibo degli dei, ma è anche una bevanda, ecco perché anche la bevanda è cibo. Io ricordo i vecchi agricoltori quando lavoravano a mano a falciare l'erba o a mietere il grano che bevevano un fiasco di vino per fare energia. Era acqua e vino in una mattinata, un fiasco intero, però non ingrassi il vino fatto in questa maniera. Se tu non esageri, anzi è dimostrato che chi è a Stemio ha più tendenza ad ingrassare di chi beve moderatamente un pochettino di vino. Almeno lo dicono gli americani, in questa cosa mi fa piacere gli americani. Carlo, allora per avere e ordinare queste ceste, il vino, non solo privati ma anche delle aziende che vogliono fare regali ai loro dipendenti, ai loro collaboratori, ecco si può venire a prenderlo, poi bisogna stare attenti al comune, ma si può venire a prenderlo, si può ordinare, lo consegnare? Possono venire a prenderlo, chi può muoversi. Chiaro. A tutti gli altri lo portiamo. Noi abbiamo già parecchie prenotazioni, prepariamo le ceste secondo i desideri dei clienti e le consegniamo direttamente a domicilio senza far pagare il trasporto per il periodo natalizio nell'ambito del comune di Bologna e l'imitrofia. Certo, e quindi c'è questa opportunità in più? Possono telefonare, possono fare attraverso internet, possono fare messaggi, email, quello che credo, oggi ci sono tanti mezzi ed è sempre un piacere quando uno al telefono ti ordina qualche cosa in questo periodo, che purtroppo i ristoranti sono vuoti e quindi la maggior parte del vino noi si vendeva ai ristoranti, però ci sono i clienti che in questo periodo un bicchiere di vino secondo me fa bene, a parte che si può fare anche il test con il vino letto, come ho già detto, perché sentendo i profumi vuol dire che sei ancora sano. Carlo allora bene, grazie, buon lavoro, davvero bisogna comprare non solo italiano ma comprare locale sul nostro territorio, la parola d'ordine è questa. Venire a comprare nel territorio, io invito tutti e chi viene qui avrà anche un piccolo omaggio oltre lo sconto e la bella siesta che prepareremo. Intanto auguro un sereno Natale a tutti, io ho fatto parecchi Natali belli, brutti, eccetera, quindi questo Natale non mi spaventa, staremo con i nostri parenti più intimi come gli altri anni purtroppo, tutti gli anni c'è qualcuno di meno ed è un guaio, però è una festa e bisogna essere ottimisti anche con questa epidemia che abbiamo. E chi non c'è lo pensiamo in paradiso, a guardarci dall'alto a federe dall'alto. A 90 anni dovrei avere paura, non ho paura. Questo è positivo. Carlo Gaggioli, grazie anche come sempre della bella accoglienza, grazie davvero. Grazie a voi e auguri a tutti i miei clienti.